Buonasera e benvenuti al telegiornale regionale per sordi. Il progetto dello studio Arup ha vinto il restyling dell'Artemio Franchi a Firenze. Spiega Filippo Minora, architetto di Arup Italia. Il progetto è fatto sostanzialmente dalla copertura dello stadio per consentire a tutti i tifosi di stare sotto al tetto ed è uno degli elementi più visibili, semplice ed elegante. L'altro è un sistema di tribune nuove che vanno a iscriversi in quelle storiche che sono patrimonio da tutelare e porteranno i posti a sedere più vicino al campo rispetto alla configurazione attuale che ha le curve molto lontane. Porteremo i tifosi vicino al campo e creeremo nuovi posti sui lati Maratona e Tribuna d'Onore che saranno caratterizzate da posti premium. Arup, ha ricordato ancora, ha partecipato alla realizzazione dello stadio di Pechino e di quello di Monaco. Abbiamo lavorato poi con Renzo Piano per lo stadio di Bari. La cosa che ci piace di più è aver creato questi nuovi spazi tra le tribune esistenti e quelle nuove che diventeranno veri e propri hub culturali della città. L'architetto ha sottolineato che è possibile permettere alla Fiorentina di giocare durante i lavori magari con una capienza limitata. Sui tempi abbiamo fatto un progetto con un cronoprogramma chiaro di 30 mesi di cantiere. Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di iniziare. Ma all'indomani della proclamazione del vincitore del concorso internazionale per lo stadio sono già scoppiate le polemiche che rischiano di rallentare l'iter. Lo studio di architettura internazionale Populus, che è uno degli otto finalisti, ha annunciato di voler presentare ricorso perché sono stati esclusi a causa di un vizio di forma. Il loro nome sarebbe saltato fuori in un file, mentre i progetti dovevano restare anonimi. Avevamo già messo in conto possibili ricorsi, è la replica del sindaco Nardella, che rassicura sulla tempistica, che è tassativa per ottenere i 95 milioni del PNRR. Nardella si dice sicuro del lavoro fatto dagli uffici e tranquillo dal punto di vista dei tempi. Spiega, qualunque ricorso non inficerà la tempistica, perché grazie alle norme introdotte dal Governo sui contenziosi amministrativi relativi ai progetti finanziati dal PNRR o da fondi correlati, questi contenziosi non comportano la sospensiva, ma vengono risolti a valle della realizzazione dell'opera. È attivo da stamani in Prefettura a Firenze il Centro Coordinamento Interventi a sostegno della popolazione proveniente dall'Ucraina. Al tavolo, oltre alla Prefettura che coordina il lavoro di gruppo, c'è il Comune di Firenze, anche nella qualità di capofila dell'area metropolitana e gli operatori volontari della Comunità Ucraina e della Protezione Civile. Il Centro opera in stretto raccordo con la ASL di Firenze e con la Regione Toscana. Sono stati istituiti numeri dedicati per le chiamate. Questi numeri sono 055 27 83 57 4. Gli altri numeri hanno il finale diverso. Le ultime tre cifre sono 577, 578, 579. Potrebbe arrivare dalla comparazione del DNA la svolta nelle indagini per l'omicidio dei due fratelli Talarico della provincia di Catanzaro. Uccisi 16 anni fa a colpi di pistola e poi sepolti in una buca in un bosco a Terra Nuova Bracciolini. Oggi il GIP di Firenze ha dato incarico a un perito di comparare il DNA dei dieci indagati nell'inchiesta con quello che sarà possibile estrarre dai reperti sequestrati nel 2006 sul luogo del delitto. Oltre 7,3 milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle province e alla città metropolitana per la manutenzione delle strade regionali esclusa la FIPILI che beneficia di un finanziamento ad hoc di 3 milioni di euro. C'è il via libera della giunta alla delibera proposta dall'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Vediamo i numeri della pandemia in Toscana. Sono 3.840 in più rispetto a ieri i casi Covid con un'età media di 39 anni circa. Si registrano 18 nuovi decessi, 8 uomini e 10 donne con un'età media di 79,6 anni. Il leggero calo, i ricoveri, sono 747, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva. Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana, afferma Come Regione il mio appello è a non abbassare la guardia e a essere consapevoli che il Covid non è finito e ancora circola fra noi e quindi l'appello è ad avere comportamenti rigorosi per garantire di arrivare all'estate. Questa, ha detto Gianni, si sta configurando come la prima settimana con una piccola tendenza al rialzo. Sarà inaugurato tra meno di un mese il cantiere in via Alcide De Gasperi a Prato dove inizieranno i lavori per realizzare due nuove residenze sanitarie assistenziali per gli anziani. I lavori partiranno il prossimo 4 aprile e dovrebbero terminare a ottobre 2023. Il complesso sorgerà in un'area al confine con l'interporto della Toscana centrale. Vediamo il meteo per la giornata di domani. In prevalenza sereno. Venti deboli da nord-est con locali rinforzi sulle zone meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi a largo e a sud dell'Elba. Temperature minime in diminuzione con diffuse gelate in pianura. Massime in aumento. Elevata escursione termica. È tutto, grazie per averci seguito. Buonasera.